Jingle Spot Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. A 360 gradi, tra l'altro ovviamente sarebbe entusiasta di poter tornare alla Roma con il ruolo di preparatore dei portieri, visto che la Roma ha deciso di privarsi del lavoro di Sembra, di Nanni, ma insomma credo che la Roma abbia fatto già altre scelte, si parla di Lobont, si era parlato di buon aiuto, beh devi fare preparatore. Io non vorrei più vedere mai navità, però questa è mia, per carità. Allora, per sicuro che pare che viene un terzo portiere. Oh, intanto hai fatto un prezzo, scusate, io stavo attenta. Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, a due passi da Fiugi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residenz Traiano, sulla via Sublacense, immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane, avrete uno sconto del 30%, supernottamento e ristorante. Residenz Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città.